Buonasera, io sono Oruno Ricciardelli, sono il direttore creativo di Visual Display e oggi vi racconto brevemente il progetto di Slowware 18. Cercherò di fare velocissimo perché il gong mi mette un'ansia tremenda. Slowware 18 è un concept store del brand Slowware Venezia, un brand di moda diciamo sartoriale, di lusso, con più di 40 negozi in tutto il mondo, per cui noi abbiamo iniziato a lavorare intorno al 2018. La cosa interessante di questo progetto è che è completamente fuori dalle linee stilistiche dello stesso brand, non perché noi abbiamo voluto fare qualcosa di estremamente particolare, ma perché lavorando con il brand, lavorando poi con Roberto Compagno, cioè il CEO e il proprietario del brand, abbiamo iniziato a ragionare su una tematica che per come lavora Slowware 18, Slowware Venezia, è una tematica molto interessante, cioè quella del retail esperienziale, cioè Slowware è un marchio che lavora sulla moda, che lavora sulla qualità del prodotto, ma che lavora tantissimo anche sul rapporto del brand con i propri clienti. Se tu entri in un negozio di Slowware Venezia in giro per il mondo, che sia in Italia o che sia a Tokyo, viene accolto dalla commessa che ti fa sedere, ti offre un caffè, ti mette a suo agio, ti invita a provare dei capi, dei prodotti e te lo lascia fare nella maniera più idonea a quella che è la tua voglia e quelle che sono le tue tempistiche. Che cosa succede? Che iniziando a lavorare su diversi negozi in giro periodo, scopriamo che c'era la possibilità di tornare a Milano o in Via Sulferino, il primo negozio aperto da Slowware Venezia è stato proprio quello di Via Sulferino, prendere uno spazio adiacente al negozio esistente e creare un concept store. Che cosa vuol dire un concept store? Intanto offrire dei prodotti ben diversi da quelli che loro hanno di solito negli altri negozi, con un impatto, con un aspetto più urbano, più giovanile, più fresco, che parla anche di materiali magari sintetici ma sempre di altissima qualità e di altissima cura nei dettagli. E poi soprattutto ci ha permesso di iniziare a ragionare sullo spazio del negozio cercando di importare al suo interno più della semplice vendita del prodotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che volevamo in questo caso cercare di far vivere lo spazio e far vivere l'esperienza di Slowware al cliente e non solo quella di poter entrare lì e comprare un nuovo capo di abbigliamento. Per fare questa cosa qua ci è venuto in mente di affiancare a quello che era tutto lo spazio di vendita anche uno spazio di mixology e di caffetteria. Questa cosa può sembrare abbastanza semplice. In realtà già in altri luoghi del mondo è stato fatto. Ci sono marchi come Kitsune o come altri brand giapponesi che hanno spesso affiancato la vendita del capo di abbigliamento a delle zone di ristoro. Però di solito progettano il negozio e di fianco progettano un altro spazio che poi diventa un bar, che poi diventa un mixology bar, che diventa un ristorante o addirittura in alcuni casi una piccola trattoria o un'osteria. In questo caso noi avevamo solamente 90 metri quadri e all'interno dello spazio dovevamo farci stare entrambe le funzioni. E soprattutto non volevamo assolutamente che una delle due funzioni prevalicasse sull'altra. Quindi era prerogativa principale di questo spazio riuscire a vendere i capi di abbigliamento mentre si consumava al bar e fare la stessa cosa. Al contrario, poter consumare al bar, poter girare all'interno dello spazio del negozio senza incappare in tutte quelle difficoltà che ovviamente ci sono del tipo far cadere un cappuccino su un cappotto. Per riuscire a interagire con le volontà del cliente e con il poco spazio abbiamo dovuto lavorare non solo sull'architettura ma anche sul tempo. Quindi abbiamo dovuto inventare una specie di regia ma alle spalle che potesse permettere al cliente di vivere lo spazio in maniera costantemente diversa, leggermente diversa, a seconda dei momenti della giornata in cui si entrava nel negozio. Il bar è la prima cosa che apre e il negozio apre presto la mattina, ha una funzione quasi principalmente di caffetteria, il negozio apre poco dopo, un'ora dopo, in quel momento e quasi nel resto della giornata le due attività convivono, il negozio chiude verso le sette e mezza e lo spazio continua a vivere come bar mixology. Il problema qual era? È che assolutamente non volevamo perdere la possibilità di vedere il prodotto e di poter acquistare la merce in qualunque momento della giornata. Per fare questa cosa abbiamo dovuto lavorare su questo elemento qui. Cioè ci siamo dovuti inventare una macchina scenica che ci permettesse sia di vendere e di enfatizzare lo spazio, di vendere il prodotto e di enfatizzare lo spazio, che di proteggere i capi nel momento in cui la parte di vendita principale veniva messa da parte e il locale continuava a vivere come locale notturno. Questo comportava una distribuzione in pianta di tutti gli elementi di vendita, principalmente perimetrali, con solo due elementi freestanding che poi nella fase serale venivano spostati nel camerino, mentre l'elemento centrale, cioè quello dei capi più importanti, rimane fisso lì, sì, ma di fatto subisce una trasformazione. La carica scenica dello spazio è stata dedicata a questi volumi molto duri, a questi colori, tra l'altro anche un po' saturati dal monitor, ma comunque volutamente molto pieni, proprio per rendere il tutto con un impatto molto scenico, soprattutto dall'esterno, proprio perché questo locale doveva continuare a vivere anche di notte, cosa che di solito un negozio tendenzialmente non fa. La realizzazione del corpo centrale, questa macchina scenica, è stata chiaramente una delle situazioni più difficili da gestire all'interno del progetto. Cosa molto divertente, la persona che voi vedete lì è l'ingegnere che ha realizzato e brevettato il sistema di pistoni che creano il movimento dell'intera struttura. Come potete vedere qui, in realtà la struttura che poi è stata finita con una finitura ottone, in realtà è stata realizzata in alluminio per poter rispettare i pesi e per riuscire a rimanere all'interno di quelli che sono i parametri di sicurezza delle leggi italiane. Non è voluto, ma l'ingegnere ha la stessa posa dell'omino che guarda l'elemento disegnato. Che cosa succede? Che questo nostro oggetto, che in realtà durante il giorno è un lampadario che non fa altro che caratterizzare lo spazio, a una certa ora si abbassa, rimanendo trasparente, facendo comunque vedere i capi al suo interno e diventa un bancone dove poter consumare un cocktail e continuare a dialogare e a vivere l'esperienza che Slowware voleva dare all'interno del suo negozio intorno ai capi. Il risultato finale appunto è questo oggetto. Abbiamo lavorato quindi sia nel cercare di dare il massimo delle funzioni espositive e dimostrative del prodotto all'oggetto, ma anche appunto la voglia di renderlo un elemento assolutamente scenografico molto caratterizzante, molto forte e che potesse anche nei dettagli tecnici assolutamente necessari e fondamentali, in questo caso per la resa finale del progetto, di avere un'estetica e una piacevolezza pura e riconoscibile. Ultimo elemento che abbiamo dovuto tenere in considerazione, sempre per la volontà di poter continuare a vedere la merce e quindi di poter continuare l'acquisto del prodotto anche nel momento in cui la parte del negozio veniva chiusa. Qui vedete sono due immagini serali, quindi l'elemento che avete visto prima ormai è basso, il prodotto è ancora vista, avevamo però anche una parete espositiva molto ampia che serviva soprattutto a esporre tutta la parte di oggettistica e di piegato e volevamo comunque che anche quella parete lì continuasse a essere visibile seppur non libera alla presa dell'utilizzo del prodotto. In questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato delle reti Ferrari, quindi dei tessuti non tessuti plastici che ci permettessero sì di mantenere un senso di trasparenza e quindi di continuare a vedere all'interno le tecche ma di fatto rendendole totalmente sicure. Vi chiedo solo, vi faccio vedere un attimo, ho beccato il gomma, vorrei solo farvi vedere il video se è possibile giusto per farvi capire il funzionamento di questo meccanismo centrale. Questo video è molto accelerato perché questa movimentazione che voi vedete qui in realtà avviene mentre il negozio è aperto e le persone possono assolutamente passare intorno e muoversi all'interno del negozio, tant'è che la movimentazione complessiva, quindi dall'alto verso il basso, avviene all'incirca in un minuto e mezzo o due. Grazie mille.